Ciao Emiliano, cosa stai preparando? Sto preparando un piatto che mi piace molto perché è un piatto fatto con tutti gli ingredienti del nostro orto quindi si chiama Orto che Passione in questo momento sto mettendo un crumble salato al cacao che mi serve per la proccantessa del piatto lo rendo un po' circolare ci piace l'orto rotondo ci mettiamo dei fagiolini che sono stati appena scottati degli asparagi lo stesso solo scioccati con acqua e ghiaccio poi chiaramente appena sono bolliti le verdure le lasciamo molto croccanti per la consistenza poi mettiamo uno zucchino all'interno c'è un caviale di melanzane quindi una melanzana cotta al forno che poi viene emulsionata e insaporita con erbette, sale e olio mettiamo una finta carota questa è una musti carota presa pure e poi messa in un stampino a forma di carota la carota lo stesso appena scioccata anche per dare un colore questo è un formaggio di anacardi con dei semi misti mettiamo dei pomodori confì quindi sono stati essiccati per un lungo periodo a una bassissima temperatura andiamo a concentrarli la parte zuccherina quindi alla parte dolce del piatto delle pave quindi macelli piselli stessa cosa questa è mizuna mettiamo dei germogli sono questa è mizuna è una sorta di salatina particolare ha un gusto molto particolare andiamo a richiamare la carota e questi sono dei germogli che oltre a un bel cromatismo di colore danno anche un bel gusto per ultimo mettiamo un dressing che è un olio aromatizzato che noi facciamo con tantissime verdure e tantissime erbe aromatiche e poi per ultimo ancora mettiamo una riduzione di succo di arancio e miele abbiamo anche le api quindi abbiamo il miele nostro e la grumeto e la grumeto quindi tutto vostro completiamo questo piatto semplice ma secondo me di un gusto pazzesco questo piatto è stato preparato da Emiliano Lombardelli da Madame Restra grazie a voi